...a corto di cibo. Prima ho visto il capitano leccarsi i baffi davanti ad un paio di Kremlin, quindi sarà dura. Unitevi a me, se volete tenere tutti i denti in bocca! Attenzione! Uccidiamo ai treni fuori! Se vuoi ancora combattere, combattiamo! Sanguina per me! Ti ammazzo! Anche se ero qui, sei andato! Non parla per tutti! Noi ti seguiamo! Prima! A un po' di traccia per pigriarmi! Prima! C'è qualcosa che mi interessa? Anch'io non vedevo l'ora di trovare. C'è qualcuno che si nasconde? Di sicuro. Senza tu. Un assassino, una guardia. Cos'è stato? Ne ho abbastanza. Tanto non ci piaceva. Le nostre lame sono tue. Cosa è stato? Prendiamolo. Che cosa curiosa. Ma com'è possibile? Andate ad acce. Non farmi perdere tempo riprovandaci. Non ruovere qui. Seguiti. E' ora di schiacciarti. Non guardarti! Cosa. Un gran error. Resta lì! Resta lì! C'è qualcuno? 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 Grazie a tutti